Buongiorno, le chiedo come ha vissuto un po' queste ultime 24 ore perché con i tanti arrivi dal mercato è un po' anche quello che è successo a Nicolò, un po' lei personalmente come ha vissuto questi ultimi giorni? Purtroppo con la notizia del ginocchio di Nicolò che sinceramente non ci voleva, mi dispiace tantissimo per il ragazzo perché ne avevamo parlato anche nella conferenza precedente, ragazzo straordinario lasciando perdere qualità tecniche ma umanamente davvero il Bologna ha messo dentro un ragazzo speciale, mi dispiace tantissimo, davvero perdiamo un punto di forza, però come abbiamo già detto 4-5 mesi tornerà più forte di prima e lo riabbracceremo, quindi è stata una settimana con questa notizia bruttissima e poi aver anche preparato in maniera concentrata, attenta a una partita che domani ci vedrà di fronte ad una squadra forte, una squadra per me in cattività, una squadra che cercherà il riscatto dopo la sconfitta di Verona, quindi ho visto ragazzi attenti, concentrati, siamo alla seconda giornata, cercheremo di proporre lo spirito che abbiamo fatto vedere nella prima partita. La prima cosa che ha detto a Pobega quando l'ha rivisto? Sì, poi aggiungiamoci, questa settimana è arrivato Tommy, Pobega, ragazzo che conosco, anche lui fantastico per disponibilità, per applicazione, avevamo bisogno lì in mezzo di un piede mancino, in mezzo al campo, arriva lui, io l'ho conosciuto tre anni fa, quindi con tre anni di esperienza in più, con due anni di Milan, un anno di Torino, quindi sono convinto che ho cresciuto, maturato, e aggiungiamo anche qui a livello qualitativo, a livello umano, un bel prospetto. Rimango su questo, lo butti subito dentro e convocati, perché cosa ti può dare se a livello fisico poi ha avuto un lungo stop l'anno scorso, hai già delle certezze, si è parlato con il ragazzo anche su questo? No, il ragazzo abbiamo constatato che sta bene, abbiamo parlato tanto con lui prima di affondare il colpo, tra virgolette, è guarito al 100%, chiaramente sa come prevenire, sa come gestire questo problema che ha avuto, ma è ormai superato, sta bene, ha fatto il ritiro, ha fatto partite, tutti gli allenamenti, è in condizione, c'è spazio per domani, quindi si aggrega alla squadra e inizia a prendere confidenza con i compagni, a prendere confidenza con l'ambiente Bologna, quindi è tutto a posto. Come sta invece Dallinca che si è fermato? No, sta bene, ha avuto un problemino intestinale, tutto a posto, ha saltato un allenamento, quindi oggi è rientrato, ha fatto tutto, quindi sta bene. Massimo e poi Claudio. Ciao, Vincenzo. Buongiorno. Finalmente sta tornando alla normalità che è quella che un allenatore può cominciare a fare delle scelte, nel senso che tu le hai fatte la prima giorno di ritiro, ma con la rosa molto limitata per una serie di motivi che abbiamo vissuto tutti i giorni. Ci stanno arrivando i giocatori, la prima risposta sul piano del gioco alla prestazione l'hai avuta positiva, quando pensi che potrà vedersi già il tuo Bologna? Oppure una domanda che nel calcio italiano non ha senso perché ti chiedono subito i risultati, vedi la quotidianità tua e anche di Antonio Conte. Stavo per rispondere a quello, mi ha anticipato perché conta la prestazione di domani, conta quello che andremo a fare domani, mi rimane l'atteggiamento dei ragazzi alla prima giornata, lo spirito, quello che abbiamo fatto con e senza palla, però domani penso che sia una gara diversa. Ripeto, andiamo in casa di una squadra forte, di una squadra che sicuramente vorrà riscattare la prima sconfitta, vorrà davanti al loro pubblico cercare di ottenere la prima vittoria. Hanno qualità, sono forti, ok l'anno scorso hanno avuto qualche problemino, però sono ripartiti con un allenatore nuovo, un progetto nuovo, rimangono sempre per me giocatori di alto livello che se vanno affrontati con la giusta attenzione, la giusta umiltà, la giusta concentrazione li puoi mettere in difficoltà. Se gli lasci spazio e gli concedi campo iniziano ad esaltarsi, iniziano a fare quello che sanno fare e chiaramente ti mettono in difficoltà. Quindi analizzato l'avversario, preparata questa partita, concentriamoci su quella e dobbiamo continuare però anche noi a mantenere le certezze che abbiamo fatto vedere nell'ultima partita, continuare a mostrare quando abbiamo la palla quella personalità, anche in un campo caldo e difficile come il Maradona. Siamo alla seconda giornata ed è tutto in costruzione, lo siamo anche noi, come lo sono tutte le squadre. Siamo alla seconda giornata, noi pian pianino, come hai detto te, stiamo aggiungendo tutti i giocatori. Ho finito adesso di parlare con Luca Miglio, ho chiesto quanti minuti può avere. Lui ha risposto 95-96, ma mi fa piacere perché ha grande voglia di scendere in campo, ma per dire che pian pianino stiamo aggiungendo tutti, per la condizione che hanno, per la condizione che dobbiamo far migliorare a tutti, però anche noi siamo alla seconda giornata, quello non lo dobbiamo dimenticare. Ciao Vincenzo, mi presento perché non ero a ritiro, sono Claudia Aldrovandi di 051.2. Mi hai già un po' risposto, penso, però tornando alla partita di domani e al fatto che comunque le squadre sono ancora in costruzione, in evoluzione. Quale pensi che possa essere l'elemento chiave, quel particolare, dal punto di vista tattico, proprio per la partita di domani contro il Napoli? Ma a livello tattico un po' ci aiuta il fatto che l'Udinese, sotto l'aspetto del sistema di gioco, era simile a quello che è il Napoli, quindi sul solco della settimana precedente abbiamo lavorato. Quindi loro con questa difesa a tre, questi attaccanti che entrano dentro al campo, con i due quinti che fanno gli attaccanti, ecco perché dico che abbiamo lavorato con grande attenzione, perché se gli lasciamo campo ci ritroviamo con cinque, sei attaccanti in prima linea. Quindi sotto l'aspetto tattico è quello, cercare di lavorare ancora con l'atteggiamento, dello spirito che abbiamo avuto nella partita precedente, grande aggressività, limitarli, perché ripeto se li lasciano giocare ci mettono in difficoltà, e poi noi mostrare personalità. Quando abbiamo la palla cercare di non buttarla, di non regalarla, cercare di averla spesso anche noi per metterli in difficoltà. E questo secondo me è quello che un po' ci aspetterà domani. Poi, ripeto, affrontiamo una squadra che qualche mese fa ha festeggiato lo Scudetto, e tanti sono ancora in quella squadra, e vanno affrontati con grandissimo rispetto, perché per me è ancora una squadra che se riesce a mettere in campo tutte le qualità, è una squadra che lotterà anche quest'anno per i primissimi posti. Ciao mister, ci hai parlato di Lukumi, ma quanti minuti possono garantirti Olm e Urbanski? No, Olm è il secondo allenamento oggi, quindi Olm è stato riintegrato con i ragazzi, con la squadra, il secondo allenamento, col ritmo che può avere Olm, già siamo contenti che si eravamo spaventati tutti, in primissi il ragazzo, perché sembrava una cosa un po' più seria, invece è tutto a posto, e questo di oggi è il secondo o terzo allenamento, Urbanski anche lui riduce da un bel po' di tempo inattivo, sta iniziando a incrementare anche lui, quindi pian pianino, come ho detto prima, vale il discorso di Lukumi, anche per Olm e Urbanski, pian pianino aumenterà la condizione, devono iniziare anche loro a spingere forte durante la settimana, è chiaro che la partita è diversa dall'allenamento e quando saranno chiamati in causa li spingere e iniziare a aumentare la condizione, perché tra un po' inizieremo ad allenarci meno, perché ci saranno le coppe, quindi dobbiamo farci trovare pronti tutti, avere una condizione ottimale tutti e lo dobbiamo fare attraverso sia l'allenamento che le partite. Buongiorno Italiano, su Urbanski dove lo vede in campo, in che posizione, visto che poi il ragazzo nel corso della sua giovane carriera è stato utilizzato già in diversi ruoli tra il centro campo e anche esterno d'attacco. All'occorrenza ho visto che è stato utilizzato anche sull'esterno, è un ragazzo che ha grande duttilità, lui farebbe anche il portiere ma mi ha risposto, però io ho visto fare anche l'esterno e in mezzo al campo è un interno di centro campo, all'occorrenza ti può giocare anche sotto punta, guizzo, a uno contro uno, è sveglio, il ragazzo è molto sveglio per l'età che ha e quindi in mezzo al campo credo che può lavorare in quelle zone e il fatto che anche gli piace, ripeto, all'occorrenza, da adattato, ti dà anche la soluzione per lavorare sull'esterno, quello quando, se ci sarà bisogno, avremo anche lui che può stazionare in quella zona. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Mi ricorda che ti è detto quanto sei arrabbiato per la massiccia condizione occultiva che avete creato con l'Udineve, in un centro campo di sito, quanto sei arrabbiato per la cosa che... No, a parte che è arrabbiato sono dispiaciuto, dispiaciuto perché come ho detto in presentazione della partita iniziano le gare vere dove contano i punti, dove conta vincere, dove conta essere concreto e noi lì davanti negli ultimi 16 non siamo stati efficaci per portare a casa, penso secondo me, tre punti che ci stavano tutti per noi. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo continuare ad avere questa voglia di arrivare, questa voglia di produrre la concretezza, l'efficacia, la velenosità, l'alleneremo, andremo in campo tutta la settimana, proveremo con gli attaccanti, cercheremo di limare qualche difettuccio che abbiamo sotto porta, ma è importante quella voglia di continuare a produrre, a cercare di, come ho detto prima, di avere grande personalità quando si ha la palla, perché se ce l'hai te, gli altri possono farti meno male, possono creare di meno rispetto a quello che può essere una palla consegnata sempre all'avversario, quindi contento per quello che abbiamo prodotto, dobbiamo cercare, i ragazzi lo sanno, è stato un peccato non averla vinta per la poca precisione, quindi lì dobbiamo lavorare con molta più abbregazione. Buongiorno. Ma intanto anche lui purtroppo ha perso una gran parte del ritiro, purtroppo c'è stata questa maledizione dei troppi infortuni che abbiamo avuto anche nell'ultimo periodo, Nicolò, lo stesso Ella Zuzzi che ancora non ce l'abbiamo a disposizione, il ritiro è successo, Olme, Carson, ha perso qualche giorno importante di ritiro, adesso pian pianino anche lui sta tornando a spingere forte, io ho quello che posso dire di Carson che ha un uno contro uno importante, ha una grande qualità negli ultimi metri, credo che da quel punto di vista forse sia in vantaggio rispetto a qualche altro compagno, perché vede la porta, spesso la prende, spesso mira gli angoli e la prende, quindi deve crescere anche lui in autostima, deve essere molto più esigente per tutto quello che fa, quando difende, quando attacca, però le qualità le ha e sono convinto che anche lui avrà a disposizione chance per far vedere a tutti che è un giocatore che quando è stato scelto dal Bologna, giocatore che aveva fatto tanti gol nella Z, giocatore con grande qualità, che tante squadre avevano puntato anche a portarlo lontano da Bologna, deve dimostrare anche lui di avere queste qualità e secondo me lo può fare. Massimo. Ma ho conosciuto il Presidente, il Presidente qualche anno fa venne dentro lo spogliatoio a fare complimenti allo Spezia per come avevamo lavorato, poi negli anni successivi abbiamo anche fatto qualche chiacchiera, per me lo ribadisco, è una persona che stimo, quando parli di calcio con lui è una persona che si fa tra virgolette capire, perché ormai sa di calcio, domani se lo incontrerò lo saluterò volentieri, e mi fa piacere questa stima che ha nei miei confronti, però domani saremo avversari, ci saluteremo, ripeto, se dovessi incontrarlo, e ribadisco la stima che ho nei suoi confronti. Mi ha anticipato Massimo, però le chiedo un'altra cosa, se negli ultimi giorni di mercato rimane solo il difensore da fare, poi la squadra è completa, o se c'è in ballo anche qualcos'altro, o anche qualche uscita magari di ragazzi che devono andare a giocare? Ma quello sull'ultimo aspetto, sull'ultima considerazione che hai fatto, vedremo, vedremo, perché poi se dovessimo diventare in tanti, come si diceva prima, vedremo quale scelte andremo a fare. Ribadisco che, come avevamo detto la settimana scorsa, si è vigili sul difensore centrale, lo ribadisco, lo confermo ancora, e vediamo, adesso manca quanti giorni alla chiusura? Pochi, pochi, quindi confermo quello che hai detto te, che avevo detto anche la settimana scorsa, sul difensore centrale. Francesco, poi il massimo, un po' uguale, se domani Orsolini parte dal primo minuto, avrà la fascia al braccio? In teoria sì, in teoria perché non so se parte dall'inizio. Ho provato a girare la domanda, non ce l'ho fatta, però Orsolini è comunque il tuo capitano, al di là di Ferguson quando renderà, di De Silvestre quando giocherà? No, no, qui in questa squadra, mi fa piacere che ne discutiamo adesso, già pronti via, in questa squadra ci sono un bel po' di capitani, c'è gente, e quando parlo un bel po' di capitani, perché vedo gente davvero attaccata alla maglia, che ha uno spirito e una voglia di lavorare per questa gente, per questi colori, per questa società, è incredibile. Quindi nel Bologna ci sono tanti capitani, poi chiaramente non è solamente quello che indossa la fascia, il simbolo, quello che ha più responsabilità. qui ce n'è tanti, Orso è partito con la prima di campionato con la fascia, ma ripeto, non è solamente quello che la indossa. C'è tanta gente che, davvero, grande personalità, grande spirito, grande carisma, quindi sono contento di avere a disposizione, sotto l'aspetto umano e della personalità, tanta gente così. Volevo chiederti se Ebischer e Miranda possono avere la freccia, magari, su quelli che hanno giocato la prima partita. E ti chiedo, Ebischer, come fa un ragazzo che poi ha fatto solo un allenamento e mezzo, si è infortunato, evidentemente non è una massa muscolare grossa per entrare in condizione, ma è entrato, mi sembra, con un ritmo importante l'ultima partita. Vero, è vero, ma l'infortunio di Ebischer è stato un po' strano. Stava bene, stava andando a mille nella partitella, è stato un po' sbilanciato e ha sentito una fitta all'adduttore, ma purtroppo capita, ed è rientrato a questa capacità subito di entrare in partita. Sembrava veramente in grande condizione, infatti gli ho fatto i complimenti anch'io. è un ragazzo che anche lui, subito, in quei 20 minuti che ha giocato, si è messo subito a disposizione, è andato forte, ha toccato una marea di palloni, se avesse calciato in maniera un po' più sporca forse poteva anche far gol, però grandissimo atteggiamento da parte sua. Miranda, rispetto all'Ico, chiaramente è arrivato nei giorni quando siamo tornati qui, poi ha fatto le Olimpiadi, devo dire che sono rimasto anche sorpreso positivamente dalla prestazione di Lico Giannis, per quello che ha fatto vedere, per la tenuta, per come si è proposto, per come ha difeso, per come ha sostenuto la fase offensiva. Penso che lì, anche a sinistra, abbiamo due ottimi giocatori, grande qualità entrambi, hanno un gran piede, sono convinto che sotto l'aspetto difensivo si può crescere, si può migliorare, ma sono attenti, sono concentrati, quindi lì, a sinistra, abbiamo due bei cavalli. Va bene, ragazzi. L'ultima di lei è un po' di Giuliani. Sul difensore centrale, l'identikit di questo profilo, su cui siete vigili, meglio se ha le caratteristiche anche per giocare sulla fascia? Questo è un centrale anche, magari utilizzabile su una corsia laterale bassa. Penso che debba avere in primis le caratteristiche del difensore, per come centrale intendo, per come intendiamo noi, nel momento in cui abbiamo la palla, nel momento in cui non ce l'abbiamo, quindi un difensore centrale puro, poi se dovesse arrivare qualcuno che all'occorrenza si può adattare. Avere giocatori duttili, avere giocatori che sanno lavorare anche in altre zone di campo, soprattutto nel momento in cui si chiudono le liste, è importante. È importante perché se dovesse capitare qualche situazione di emergenza, avere gente che si può adattare, è importante.